allora non so chi si è inventato questa cosa però in realtà mi dispiace per lui ho detto porto via non ho detto qualsiasi altra cosa detto questo chi invece pensa diversamente si vede che non sa portare via niente allora non so chi si è inventato questa cosa però in realtà mi dispiace per lui ho detto porto via non ho detto qualsiasi altra cosa detto questo chi invece pensa diversamente si vede che non sa portare via niente io mi sono portato via invece da vostre canzate buonasera